Scusa di luce con un po' di burro e c'è la farina, eh? Bene. Scusa, spero che sei mattito con lei. E se lei fa la pasta, tu mi la faccio indietro. E se lei fa la pasta, tu mi la faccio indietro. E se lei fa la pasta, tu mi la faccio indietro. Eh, no, allora guarda la gente. I tepare, se ci sei. Com'è la parte di suttia? Voi vipatia. Come e si lei fa la pasta. E se le fa la pasta. E se lei fa la pasta, tu mi la faccio indietro. Non, allora guarda la Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.